La malmignatta, un ragno velenoso presente in Italia, è noto per il suo morso doloroso e potenzialmente pericoloso per gli esseri umani. Il ragno malmignatta si trova in diverse regioni d'Italia, tra cui Liguria, Toscana e Puglia, prediligendo ambienti caldi e secchi come le praterie, le sterpaglie e i muretti a secco tipici della regione. Questo ragno, insieme ad altre specie, rappresenta un rischio per la sicurezza umana. Le femmine di malmignatta presentano generalmente 13 macchie rosse sull'addome, mentre gli esemplari maschi sono di dimensioni più ridotte e non iniettano veleno attraverso il morso. È importante prendere precauzioni quando ci si trova in aree dove questi ragni sono presenti per evitare possibili morsi e le complicazioni legate al loro veleno. Il morso della malmignatta può avere diverse conseguenze per l'uomo. Inizialmente può essere asintomatico e difficile da individuare, ma dopo circa 15 minuti il veleno inizia a diffondersi nel corpo, causando sintomi come nausea, vomito, febbre, brividi, affaticamento cardiovascolare e crampi muscolari. Nei casi più gravi, il morso della malmignatta può portare a ulcere e necrosi nei soggetti allergici al veleno del ragno.